Buon pomeriggio a tutti! Siete già andati a votare? Ricordatevi che se non lo fate poi non potete lamentarvi per la situazione dell'Italia. A parte questa notazione ritorniamo ad un'analisi settimanale su Nasdaq. Che cosa vi avevo raccontato nel precedente episodio? Vi avevo segnalato appositamente prima che arrivasse la Fed con i tassi. Che cosa? Che la situazione non era buona. Ciclicamente stavamo rischiando di continuare ad affondare. E che cosa è successo? È successo che Fed o non Fed abbiamo continuato ad affondare. Per cui non cerchiamo sempre di dare una giustificazione ai movimenti di borsa con politiche monetarie, notizie, qualsiasi genere di altra cosa. Perché se entriamo nel campo del recepimento della notizia, se comunque il tasso fosse stato pari a quello che si aspettava ma boh fosse stato recepito male dai lavoratori del New Jersey, allora si potrebbe pensare che è sceso per quel motivo. Tutto vale tutto. Nel campo delle opinioni si può provare a inventare qualsiasi tipo di giustificazione. Mentre invece ho fatto il video prima della Fed per dirvi che cosa mi aspettavo. E cosa mi aspettavo peraltro era già abbastanza evidente da quando vi avevo segnalato che da qui stava partendo un t più sette inverso. Un t più sette inverso ovvero un ciclo minimo triennale massimo quinquennale che per ora come forma sta continuando a spingere fortissimo ribasso con pochi rimbalzi. Quindi è una forma rialzista di inverso ovvero che scende molto lato prezzi. Fed o non Fed, candelina rossa della Fed o non candelina rossa della Fed, la cosa non cambia assolutamente nulla nel medio periodo. Nel breve c'è una candela che ci può stare anche prima dell'analisi, prima che arrivi la Fed segnalata nell'analisi evoluta, arriva la Fed anche fosse stata verde la candela a noi poco cambiava. Ok? Ho rifatto nel corso del tempo quanti più controlli possibili sul fatto che questo possa essere un raccordo. Anche in questo caso posso dirvi che dato che ci sono varie varianti quando si va nel lungo periodo, dato che comunque in ogni caso su questo minimo abbiamo chiuso un biennale perché il secondo annuale del biennale poteva arrivare a 325 barre ma non poteva andare oltre, 393 non sono troppo, come vedete 336 è il massimo. C'è poco da dire. Se andiamo a prendere analisi senza contare possibili raccordi, questo è un annuale che sta ripiegando su se stesso e che nel caso andasse sotto questo minimo a 11.037, avendo anche violato già il massimo che ci diceva che il nuovo T5 sarebbe partito e fosse qualcosa di più, c'è poco da raccontare gli swing. Quindi a meno che non riveda un rimbalzo che mi riporti qui sopra, sopra i 13.720 punti, appena inizieremo a scendere qui sotto scatterà l'allarme rosso. Allarme rosso perché si vincolerebbe tutto un annuale a ribasso, cosa che peraltro è già successa altrove, su DAX. La cosa che mi stupisce di più in questo periodo è che sono i mercati meno importanti che hanno dato le segnalazioni migliori. In precedenza, come sapete, se avete seguito il MIB, che sinceramente ci desse un'anticipazione di che cosa poteva fare S&P 500, non me lo sarei mai aspettato e questa volta potrebbe essere il DAX. Su DAX che cosa succede? Succede che siamo già appunto per tempi 68 barre, 68 barre uguale ciclo trimestrale, sotto ciclo di due gradi inferiori rialzista o laterale rispetto a quello che lancia, quindi il T5, viene lanciato appunto da un T3, due gradi inferiori, aggiungo due gradi al T3 e vado a T5, swing qui parte per definizione un annuale. È anche vero che potremmo avere un raccordo fino al grado T4, tra un T6 e un T6, ovvero tra un biennale e un biennale. Ma ribadisco, avremo un banco di prova molto importante perché sapremo se questo swing vale più della possibilità di avere un raccordo. Lo swing è sempre una conferma, ricordiamocelo, non è un obbligo raggiungerlo. Noi però qui invece l'abbiamo superato e quindi ci ha detto annuale in anticipo sul tempo che poi è arrivato. Situazione di inverso, anzi partiamo dall'indice. Sull'indice il guai è che da qui non può essere partito nessun mensile. A qui può essersi chiuso un mensile? Sì. Qui abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giorni sopra questo minimo e con 8 giorni la violazione anche da qui, come avevo indicato con la freccia, potremmo avere un mensile vincolato ribasso. Ma a quel punto dovremmo fare una variazione, già vincolato ribasso e già con tutte le condizioni necessarie e sufficienti per la chiusura tra l'altro. Anche perché sull'ultimo T abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele chiuso, fatto, finito. Il discorso è che qui la centratura di base che vi avevo dato funziona anche se da qui a qui ha chiuso il primo mensile. Che invece, vi ho detto, qui può aver chiuso. Allora, graficamente funziona benissimo. Questa è la centratura che mi sento di prediligere. Primo mensile, secondo mensile, terzo mensile vincolato per tutto il resto del tempo a scendere. Questa, graficamente, è meno interessante, però non posso, come vi ho detto, non tenerne conto anche perché di qua passava lo swing per la partenza di un nuovo T più 3 inverso che poi, appunto, abbiamo avuto. Qui possiamo togliere soltanto, tra virgolette, il T più 2, T più 3. Possiamo mai mettere T più 3, T più 4. Con un mensile e con tutte queste violazioni di swing, se non è partito un T più 4, ecco, non so che cosa possa essere partito. E qui abbiamo avuto la chiusura di inverso dell'annuale inverso. Vi facciamo i conti perché a volte rimango indietro su questa parte, che è dall'altra parte dello schermo mai. Qui siamo a 184 giorni. No, troppo corto. 192 è meglio. È il minimo, voglio dire. Per cui, questa è ancora parte dell'annuale inverso. In questo momento abbiamo un primo T più 4 inverso, secondo semestrale inverso, potenzialmente un terzo trimestrale inverso che, se volesse andare a chiudere, ci dovrebbe far salire. Ecco perché vi dico, attenzione, questo, se non superassimo, allora, facciamola più semplice. Se questo appunto è un terzo T più 2 che ha tutte le caratteristiche per esserlo, ma anche questo le ha, se questo è già tutto vincolato ribasso, significa che mancano ancora minimo 24 meno 13 giorni alla fine della discesa. Discesa fatta sempre a onde, rimbalzo, ridiscesa più in giù, rimbalzo, ridiscesa più in giù. Quella che chiamo la discesa del gatto morto, il salto del gatto morto. Il rimbalzo del gatto morto non mi veniva. Per cui, se continueremo a scendere la prossima settimana, questa è la centratura corretta con il T più 3, con il terzo T più 2. Mentre invece dovesse essere questa, avremo un rimbalzo molto più forte che ci porterà sopra qui e potrebbe portarci serenamente anche sopra i 12.752. Quindi, importantissimo vedere come apro lunedì. Apre in rosso ed andiamo a finire qui sotto, sotto il minimo 11.037. E quindi vi incroliamo tutto un possibile annuale. Teniamo in testa che potrebbe essere un raccordo tra T più 3, T più 3, tra annuale e annuale con un T più 7 a tre tempi. Ragionateci bene su quello che è appena finito di dire. Oppure, come detto, potenza dello swing con conferme, con tempo, ci dice che abbiamo un annuale vincolato a ribasso. Ma intanto, come dico anche sugli altri indici, cos'è che ci aiuterà a capire se siamo in una o nell'altra versione? Fatto eventualmente questa violazione, ribadisco eventualmente perché potrebbe non farla, ok? E quindi ripartiti, oppure ripartiti direttamente lunedì a rialzo, saranno i swing a dirci dove siamo. Questi swing qua, questi massimi qua, sono quelli che ci racconteranno se dal minimo che verrà fatto, quando verrà fatto, ripartirà un nuovo annuale oppure no, sarà stato un raccordo oppure no. Anche perché chiusosi un T più 3, c'è un rimbalzo ovviamente per un altro T più 3. Ed è proprio in base all'ampiezza del rimbalzo, alla forza del rimbalzo, ai volumi del rimbalzo e agli swing che potranno essere violati, che noi vedremo. Ok, questo è un raccordo oppure no. Ci siamo vincolati a ribasso, potete iniziare a shortare qualsiasi top da qui, non solo a fine anno, ma ancora oltre fine anno perché saremo ad un annuale che è arrivato a 68 giorni su minimo 192. Direi di aver detto tutto, non è un se non sale non scende, è un vediamo che cosa succede dove fanno il minimo, misuriamo a che swing si arriva e poi ragioniamo su quale delle due ipotesi è corretta. In questo momento ribadisco se dovessi essere obbligato a fare una scelta, direi è partito l'annuale, attenzione perché qui sotto, se si scende sotto gli 11.037 punti, si continua poi a scendere ancora per tanti giorni e per mesi. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splenda domenica. Arrivederci!